Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 23 maggio, in realtà soltanto la stampa fa una contro copertina ricordando che cosa è successo il 23 maggio, cioè che è l'anniversario che tutti quanti noi, insomma un po' più esè, ci ricordiamo della strage di Capaci, dei 400 kg di Tritolo che furono la morte per il nostro 11 settembre, come giustamente dice il giornale diretto oggi da Giannini. Però ritorniamo sulle cose invece che ci riguardano più da vicino, e cioè il lockdown, ci riguardano da vicino perché di queste ore, non perché quella strage di mafia non ci riguardi altrettanto da vicino, e cioè il lockdown e il comportamento schizofrenico del giornale unico del virus. Ve lo ricordate? Ieri c'era il rischio che lo spritz dei Lombardi, dei ragazzi delinquenti, assassini, un manipolo di imbecilli che era sceso per strada avrebbe potuto rifare, riaprire il lockdown in questo paese, tutti che li denunciavano eccetera. Oggi scopre sulla prima pagina del giornale il Corriere della Sera, che è il centro del giornale unico del virus, che invece cala il rischio Lombardia, quello degli spritz, quello dei tremendi ragazzi che vanno per strada. E poi ci sono i due articoli fondamentali del Corriere che in questo è rimasto in mia lista, cioè del cerchio e della botte della moglie drogata e della siringa piena. Insomma, i due pezzi sono quelli della questurina, la Sarzanini, che io immagino che giri per il Corriere della Sera, non so se lei va al Corriere della Sera in redazione, con delle mascherine da appiccicare a tutti quanti i suoi colleghi e con un metro per distanziare, oppure con i cappelli con un metro di distanza per stare lontano da tutti gli altri. La questurina Sarzanini ci parla delle forbizie dannose, peraltro è quella che ha sempre spiegato quello che in realtà i nostri questure, detto con semplice, con grande affetto nei confronti di chi per strada ci sta, a differenza dei giornalisti, insomma, volevano che si facesse in questo paese. Dall'altra c'è un pezzo favoloso di Walter Veltroni, come tutti i politici, Veltroni poi è anche persona garbata, non fa i nomi e non fa i cognomi, però i principi del pezzo di Ronconi sono straordinari. Veltroni difende i ragazzi scesi in piazza, il titolo è Risparmiateci, rispettate gli italiani, nel senso che cerchiamo di non... è un pezzo che avrebbe dovuto leggere la Sarzanini, che avrebbe dovuto leggere i titoli di Corriere della Siera, che avrebbe dovuto leggere il sindaco di Forte dei Marmi, il sindaco di Milano, il presidente della regione Solinas, tutti i sindaci sceriffi, uomini forti, lo stesso amico mio De Caro, il sindaco pugliese di Bari, che insomma in questo momento si stanno accanendo sulla libertà e l'ansia di libertà dei ragazzi, e anche degli sportivi e anche dei cittadini e di tutti coloro che pezzano che in fondo la nostra responsabilità oggi sia da gestire individualmente e non attraverso ordinanze di questi sindaci sceriffi, di cui più o meno fa menzione anche Walter Veltroni, grande pezzo di Veltroni oggi sul Corriere della Sera. Ci voleva un ex politico di sinistra per prendere a calci nel sedere metaforicamente questa idea della sinistra invece questurina che riempie il giornale unico del virus, ma non è che ci finiamo qua, oggi c'è da incorniciare, sentite bene a me, incorniciare un'intervista di Ginori su Repubblica, la prima pagina della cultura di Repubblica, Finkelkraut, a differenza della Van der Leyen, perché li cito così, Finkelkraut è la Van der Leyen, Finkelkraut è un mito totale, un mito totale. Vi prego, rimediate l'intervista in cui l'inizio dell'intervista già vi fa codere come dei ricci di sabato mattina, non voglio vivere nel mondo dei cretini sorridenti, non voglio vivere nel mondo dei cretini sorridenti che sarebbero quei cazzoni che pensano che questo virus ce lo siamo meritato noi, questo virus è la risposta della natura, la cattiveria degli uomini. Insomma, su tutto questo un filosofo come Finkelkraut, che non è certo una specie di negazionista di destra, ma è semplicemente un uomo che ragiona con la logica, fa un'intervista oltre tutti gli schemi, oggi straordinario, appunto a Ginori. Insomma, quando pensa a questi qua, pensa a tutti i nostri virologi pure, perché c'è sempre un sapore, bastava vedere ieri la contentezza della virologa Ilaria Capua, che è diventata una grandissima star della televisione, del pensiero, che ci spiegano quanto sarà bello questa decrescita infelice. Sì, molto bello. Adesso vedete, per favore, sulla decrescita infelice, sul mio sito nicolaporo.it un pezzo straordinario di Antonio De Filippi, che lo pubblico sul sito, fra poco uscirà, che ci parla di Robespierre. Robespierre non è quello che tagliava la testa di cui vi ricordate voi alla fine del Settecento. Robespierre è un meccanico di Roma, che è una bottega di meccanico di Roma, ormai il papà lo voleva chiamare Stalin, non gli erano permesso, e questa bottega di Roma, di meccanica, è durata per quattro generazioni. Vedete, nel pezzo di De Filippi, poi glielo spiegate alla Capua, glielo spiegate ai nostri fenomeni, come lo spiega bene Antonio De Filippi, che cosa vuol dire oggi subire tutti i controlli, tasse e cagate per questa decrescita infelice a cui ci vogliamo sottoporre. Nel frattempo, sul turismo, insomma, è l'altro grande tema. E là, ovviamente, tutti convergono. Intervista di Franceschini al quotidiano nazionale, e poi intervista del direttore dell'OMS, Ranieri Guerra, che non segue sostanzialmente la regola del doppio cognome, non so se Ranieri sia il nome o Guerra il cognome, forse il contrario, Guerra il nome, Ranieri il cognome, perché dice delle cose straordinarie per un tecnico, e cioè sapete qual è la cosa straordinaria per un tecnico che si occupa di salute? È la seguente. Fare le vacanze in Italia non solo è più sicuro, ma è anche più etico. Allora, posto che io sono molto felice di fare le vacanze in Italia, ma io sono un destro, io vengo considerato un sovranista. Sentirmi dire da Ranieri Guerra o Guerra Ranieri che questa è eticamente giusto fare le vacanze in Italia, voglio chiedere, scusami, ma per esempio anche in Sardegna, dove c'è il passaporto sanitario e non posso entrare, forse anche a Forte dei Marmi, in cui c'è bisogno di essere residenti per poter giocare a tennis e non domiciliati, forse anche a Milano, dove è necessario anticipare il fatto che qualcuno va sui navigli per non fare assembramenti. Bene, io ringrazio Ranieri Guerra, ma sembrano che vivono in un mondo completamente loro. Cosa vuol dire le vacanze in Italia? Vuol dire andare in una spiaggia in cui si può stare uno a distanza dell'altro di 4 metri, pagare 5.000 euro una stagione, come chiederanno ovviamente per poter riprendersi dei loro soldi coloro che gestiscono gli stabilimenti baleari. Questi sono dei pazzi, sono dei pazzi. Io le voglio fare le vacanze in Italia, ma mettetemi nelle condizioni di farle. Non posso manco andare in Sardegna, non posso neanche prenotare un volo per la Sardegna. Detto questo, Boccia ci rincuora e ci spiega che la sicurezza viene prima del mercato. Boccia è uno straordinario ministro che si è scoperto di sinistra, non so per quale motivo così di sinistra oggi, sembra una costola di Leo, l'amico pugliese Boccia, perché ci spiega prima che volevamo dare ascolto al dio denaro e adesso la sicurezza viene prima del mercato. Bisognerebbe spiegare a Boccia che senza il dio denaro e senza il mercato probabilmente gli italiani non stanno meglio perché la sanità e i 7-8 miliardi in più che gli abbiamo messi non è che arrivano dalle frasi di Boccia, ma arrivano dal mercato, arrivano dai privati, arrivano dal dio denaro. Il problema è che talvolta si confonde veramente l'idea del pregiudizio catto comunista, catto grillo comunista del denaro con quello che invece col denaro si può fare. Fantastico poi l'Inghilterra. L'Inghilterra ha deciso perché ogni paese l'affronta infelice a modo suo, l'Inghilterra con Boris Johnson prima voleva fare l'immunità di Grecia e oggi pensate un po' voi arriva a chiedere 15 giorni, 15 giorni di quarantena per tutti quelli che tornano in Inghilterra dall'8 giugno, dichiarato ieri, oggi il Daily Mail ci apre e ovviamente ne parla un pezzo migliore sulle quarantene, su tutti i movimenti in Europa e quelli che li mettono non li mettono, la Grecia, la non Grecia, la Germania eccetera lo fa il quotidiano nazionale. Quindi i nostri geni, i nostri scienziati, in realtà quello che dovrebbero fare è rendere il nostro turismo ancora più appetibile oggi senza cagarsi sotto che questo contagio possa ancora esplodere, la seconda ondata, la cupezza, i ragazzi delinquenti che vanno a fare uno spritz. Ma come facciamo a aumentare il nostro turismo se noi prendiamo a calci nel sedere i ragazzi che vanno a prendersi uno spritz che non mi sembra che ci sia nulla male? Come facciamo a aumentare lo turismo se non riusciamo a sapere quando prenotare il Sardegna? Dico una cosa per un'altra, non perché la Sardegna non è esattamente l'ultima meta turistica di questo posto, ma comunque continuiamo così. Sul decreto rilancio oggi se ne occupa il sole 24 ore, l'apertura del sole 24 ore, beh è stupenda questa lotta intestina che si fa, si danno fondo perduto a autonomi, a imprese ed è giusto ovviamente, a commercianti è giusto, ad artigiani è stra giusto ma non ai professionisti, perché i professionisti 266666, questo è esattamente quando cito professionisti esce il numero del diavolo su quelli che mi seguono, i professionisti sono considerati il diavolo, il diavolo e quindi ben si meritano di non avere un euro, va bene? Questa è la bella idea diciamo dell'Italia autarchica, dell'Italia che deve spendere poco, dell'Italia per cui dai un bonus vacanze complicatissimo di 500 euro che non servirà assolutamente nulla, però è un'Italia che sta anche cambiando, lo leggo oggi sul Corriere della Sera ed è la storia più bella della giornata, dopo Fincherkraut io ve la segnalo, ve lo ricordate il Movimento 5 Stelle, quelli di onestà, onestà, onestà? Quelli che ci hanno fatto una testa così, che volevano aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno? Beh, il Parlamento e la scatoletta di tonno non l'hanno aperto, hanno fatto solo quella finzione un giorno di andare in Parlamento con l'autobus fico e poi dopo ci si è presentato con le sue macchine, immagino. Poi ci siamo visti quelli che non dovevano fare il secondo mandato, mentre oggi si discute se la Raggi e la Appendino possono fare un secondo mangiato e oggi sul messaggero Zingaretti dice che non vuole il secondo mandato della Raggi con la quale governa, ma un tempo il secondo mandato era una specie di tabù, invece oggi c'è Di Maio, tutti questi fenomeni ovviamente sono ricandidabili insieme alla Raggi, ma la cosa bella è che hanno abolito un'altra cosa stupenda, sapete cosa hanno abolito? Hanno abolito la rendicondazione degli scontrini, vi ricordate che facevano due palle così? Noi siamo onesti, ridiamo i soldi! Beh, ora fanno esattamente come tutti gli altri partiti, restituiscono al partito un forfait, come fanno esattamente tutti gli altri partiti, complimenti al Movimento 5 Stelle! Andate a fare adesso il vostro meme sui vostri social, adesso da ora in più non c'è più la rendicontazione degli scontrini, vero Villarosa? No, forse sbaglio ancora, Villarosa, quello là, il fenomeno siciliano che voleva due anni di, come si chiama, ricordatevelo perché io ogni tanto ve lo ricordo, abbiamo un fenomeno siciliano che è un genio totale, che voleva allungare di due anni i termini dell'accertamento del 2015, poi il suo stesso partito l'ha preso diciamo a capocciate questo ragionamento a lui e a Ruffini, ha fatto sì che ci fosse un casino molto peggiore rispetto a quello che obiettivamente Villarosa immaginava, perché quello sarebbe stato solo vessatorio nei confronti dei contribuenti, il casino che fanno oggi tra invece è semplicemente più incasinato per tutti quanti. Chiusa la parentesi, vi ricordo soltanto che l'eccezionalità glirina è quella, è quella di Ricciardi che poi mi dà anche un... non vi dispiacete, oggi l'ho letto un pezzo di Don Pè, un'intervista di Don Pè favoleosa sul Corriere della Sera che dice c'è un attacco nei confronti della Lombardia e contro il suo sistema sanitario e poi ho visto Ricciardi che ha quest'area simpatica da teatrante, oggi fa un'intervista e dice ho parlato con la mamma e si era preoccupata, c'è poco da preoccupare, si è fatto un discorso in Parlamento e per quanto mi riguarda, per quanto esso sia volgare o non mi sembra che ci sia... il Parlamento è quella roba là, cioè è ovvio che si litiga in Parlamento, anche secondo me hanno ragione i leghisti e tu sei stato, voglio dire, non dal mio punto di vista condivisibile, ma il Parlamento è il luogo finalmente del dibattito, delle urla e del confronto, preferisco il Parlamento in cui c'è Ricciardi di cui non condivido nulla e che urla in Parlamento e la lite con i leghisti del Parlamento pre Ricciardi e Conte, quando quello faceva i DPCM nessuno se ne accorgeva, quindi io non mi scandalizzo per niente per Ricciardi, anzi penso che sia il Parlamento sia il luogo migliore per litigare, non i sotterfuggiti che abbiamo raccontato in questi ultimi mesi fatti a Palazzo XV, quindi pur non condividendo Ricciardi penso che lui abbia fatto una cosa completamente legittima. Vado avanti sull'ultima questione che riguarda il caso Palamara, è straordinario perché il caso Palamara è un'intercettazione in cui dicono i magistrati che Salvini è una merda, lo dicono i magistrati e che devono andare contro di lui e che non vorranno applicare le loro leggi modestamente, a Quarta Repubblica l'avevamo sempre raccontato, lo dicevano anche in chiaro i magistrati che erano contro i decreti di Salvini, ma il punto fondamentale è che martedì dovranno votare, e questo sì è orribile, il Movimento 5 Stelle dovrà votare per l'autorizzazione a procedere per Open Arms, un'altra delle navi per le quali Salvini si era opposto allo sbarco, col piccolo problema che una volta gli hanno dato la soluzione, un parlamentare, una seconda volta gli hanno detto che dovrà essere processato e vedremo martedì che cosa deve fare, tutto per sequestro di persona, una roba che se la vai raccontare in giro non ci crede nessuno. Bene, questa roba qui in realtà oggi i giornali, il belpietro soprattutto, ma anche il giornale ma anche Libero, dicono ragazzi ma come si fa a pensare che ci sia un processo equo quando i magistrati considerano Salvini e lo dicono tra di loro una merda e tutto quello che fa deve essere contrastato dal punto di vista giudiziario. Io la trovo una cosa incredibile, come incredibile, ha ragione il belpietro che Mattarella ieri qualche cosa ha detto, ma in realtà ha detto qualcosa talmente flebile, talmente ridotto che ovviamente i giornali che potevano non l'hanno ripreso. La giustizia è dimezzata invece al titolo di Repubblica, nel senso che nel frattempo i tribunali, come tutti i luoghi pubblici, mi sembrano lavorare a basso regime, ma la differenza è questa, quando un dipendente pubblico lavora a basso regime sono cazzi vostri, quando voi lavorate a basso regime o siete in cassa integrazione sono problemi vostri, perché i dipendenti pubblici il loro stipendio lo prendono, per esempio, faccio un esempio così che qualcuno mi vuole intendere, se uno fa il dipendente pubblico e poi diventa sindaco, prende lo stipendio da dipendente pubblico e non quello di sindaco e quello stipendio glielo danno in ogni caso. Poi può fare anche il fenomeno, può fare anche il fenomeno, io non faccio nomi perché sennò poi arriva la Palombelli e mi sgrida e mi dice che io mi sto scusando, io non faccio nomi, non faccio nomi, ma dico che se un dipendente pubblico diventa sindaco, poi può scegliere se prende lo stipendio da dipendente pubblico o quello di sindaco e forse se gli conviene spesso prendere di più quello da dipendente pubblico che quello di sindaco, soprattutto se un comune è di pochi abitanti, però i monopattini, mi chiede Elena cosa ne pensi comprati dalla Cina da Di Maio, penso che per i monopattini questo governo ha investito 120 milioni, 150 milioni di euro, monopattini e biciclette, 150 milioni di euro e oggi se tutti i giornali invece la genialata di quell'altro Arcuri che ha dedicato 50 milioni, quindi mezzo secondo per poter far sì che le aziende gli si rimborsassero mascherine e presidi medici, quindi gli abbiamo dato tre volte più soldi ai monopattini comprati dalla Cina di quanto abbiamo dato alle mascherine anche se comprate dalla Cina ma forse più indispensabili per la protezione nelle aziende in queste ore. Bene, vi do un grande abbraccio a tutti quanti voi e ci vediamo domani con la zuppa di porro. Antonio De Filippi sul sito Nicola Porro, quando lo metto in onda dovete vedervelo. Ciao!